emerge un po di preoccupazione non tanta comunque il fear in grid index sceso a 57 già ieri era su questi livelli una settimana fa eravamo a 63 però siamo comunque in zona di ottimismo quindi questo comunque è conferma quello che dicevamo ieri cioè che la rottura di certi supporti che probabilmente se avverrà porterà a un'accelerazione per il momento abbiamo visto la debolezza sugli indici questa è prismi alla guardiamo dopo è una delle richieste interessante quindi restate in ascolto perché fra poco lo andiamo a vedere è sempre 500 che guardiamo sempre attraverso lo spy e quindi questo è il livello da tenere secondo me d'occhio che è il famoso gap del 10 novembre la data di pubblicazione dei cpi questo è un mega gap è un mega gap perché la chiusura era qui sotto cioè noi qui eravamo in una configurazione bearish quindi questo o è stato un cambio no un game changer questa giornata quindi cambio di partita qui si stava andando verso il ritest dei minimi e questo gap ha cambiato la situazione oppure se come potrebbe essere tutto questo si rivelerà una bull trap potrebbe lo vedremo dalla rottura lo spartiacque rimane questo questa giornata qua del 9 10 importantissima quindi da tenere d'occhio di tutti gli indici ora l'america manca ancora un'ora la chiusura però oggi è una giornata di stabilizzazione con tutti d'oggi questi quello che abbiamo visto ieri quello di oggi tutte candelette di indecisione dopo qui c'è stato un impulso al ribasso importante partito ovviamente lunedì con tra lunedì e martedì due belle estensioni al ribasso che ci hanno portato qui nella zona critica intorno ad area 39 vediamo gli altri indici ecco dicevo di tutti gli indici il russell è l'unico che è andato questo il gap fra il 9 e il 10 che è l'unico che ci è andato dentro è rimbalzato per il mondo è rimbalzato per il mondo è rimbalzato debolmente oggi giornata tipo shooting quindi ecco guarderemo credo bene attentamente quello che fa il russell che in passato chi segue questo canale da tempo a proposito iscrivetevi al canale grazie a questo del soprattutto quello di youtube ma anche quello di trading view per appunto allargare la comunità chi non si fosse iscritto e invitato a farlo anche per non perdersi di aggiornamenti e quindi comunque chi segue il canale da tempo si ricorderà 2021 come il russell ci ha fatto bene da anticipatore no di certi movimenti degli indici principali e questo è logico perché comunque il russell è quello rappresentativo della cosiddetta street economy quindi piccole e medie imprese e un indice dedicato a queste aziende quindi è importante è importante osservarlo ecco quindi siamo qui su questi livelli oggi ripeto un altro d'oggi questo con un'ombra verso l'alto importante questo è un segnale di debolezza però qua finché non vengono rotti i supporti è inutile cioè da qui potrebbe anche partire una nuova rotazione verso l'alto attenzione domani ci abbiamo dati importanti e la settimana prossima settimana prossima è cruciale perché la settimana prima del break natalizio ed è tutto concentrato lì due riunioni delle banche centrali una valanga di dati macro dati sulla dati sull'inflazione in parte saranno domani domani ci sono i dati sul sui prezzi alla produzione in america settimana prossima dati sull'inflazione e poi le scadenze tecniche di dicembre con il quadruplo witching come si suol dire perché essendo fine trimestre scadono una valanga di opzioni derivati e quant'altro quindi settimana prossima cruciale però secondo me i segnali cominceremo abbiamo già cominciato a vederli quindi continuiamo a seguire con attenzione importantissimo il video di domani anche vediamo poi la situazione di fine settimana il vix che ieri aveva cominciato ad andare verso l'alto oggi meno 1 e 8 però niente di che quindi qua c'è stato un break di questo trend ribassista quindi questi sono tutti segnali che poi dobbiamo ponderare da un punto di vista ecco vediamo l'europa ecco vediamo l'europa invariato il dax il dax è quello che verso il basso si è esteso di meno ora paradossalmente questo è sempre la solita candela no quello che abbiamo visto come mega gap lì sugli indici americani sugli indici europei è un candelone giallo perché perché ovviamente quando sono stati pubblicati i famosi dati su cpi erano le 14 e 30 i mercati americani erano chiusi quindi quando hanno aperto le 15 e 30 hanno aperto con un gap mentre i mercati europei erano aperti dal mattino e quindi si vede appunto l'estensione verso l'alto della candela quindi paradossalmente il l'indice più lontano dalla dalla base del candelone è il dax il dax che continua a mantenere una distanza notevole una distanza di sicurezza dai supporti dati qua da volatilità di stop line media 200 cioè qua come dicevo ieri fino a 13 9 non è successo assolutamente niente perché andiamo a vedere il ritracciamento del 50 per cento del candelone un'occhiata ecco qui e do seguito a quella che era stata una richiesta di qualche giorno fa di un amico che diceva perché non guardiamo anche qualche altro indice europeo avevo spiegato all'epoca che non ci sono queste marcate differenze tra gli indici europei come ci sono invece fra gli indici americani che hanno appunto come dicevo prima una netta distinzione no cioè piccole medie imprese quindi abbiamo il russell oppure il nasdaq tutte le aziende grosso sono tutte lì non ci sono queste differenze marcate tra gli indici europei che quindi sono molto correlati ecco però fra tutti quanti lo stocks 600 che lo stocks euro cioè è lo stock c'è un indice sulle 600 principali aziende europee quindi non solo dell'area euro ma di tutta tutta europa quindi compreso per gran bretagna svizzera eccetera eccetera quindi questo è un indice interessante che ha anche un future abbastanza liquido e quindi diamo anche un'occhiata per vedere se per caso appunto questo indice da delle indicazioni diverse rispetto agli indici che normalmente seguiamo cioè al dax come esempio la germania comunque la principale economia europea però ecco qua il segnale appunto non ci sono segnali non nel senso che la situazione è analoga a quella del dax perché anche qui la metà del candelone del 10 coincide con media 200 volatilità di stop line quindi più o meno siamo in una situazione simile cioè la possibilità di uno storno confermato adesso dal rientro del dmi positivo e dal possibile incrocio con il negativo quindi siamo adesso sicuramente a un croce via quindi potrebbe proseguire la correzione fino a 426 di questo indice stocks 600 e fino a oggi ecco non abbiamo non abbiamo segnali di reversal di questo pullback ecco questo per quello che riguarda gli indici azionari guarda guardiamo i rendimenti perché oggi sono in risalita vi avevo detto che eravamo in area critica 1 e 8 per il rendimento 1 e 8 per il decennale americano 1 e 8 sta facendo per il momento da supporto e già da un paio di giorni questo è 12 terzo tentativo terzo tentativo ieri cond oggi oggi sta facendo quindi quella di ieri potrebbe essere una rising star sono delle rotazioni tutte che stanno avvenendo in questo box ristretto è perché comunque anche verso l'alto non è che sia riuscito poi ad andare chissà dove quindi adesso vediamo vediamo il retest di questo top però ricordo sempre che la permanenza su un supporto lo indebolisce perché più rimane sul supporto più la domanda che è presente in quei a su quei livelli viene logorata viene esaurita bene soddisfattano tutti quantitativi che sono lì anche se qui parliamo di rendimenti no quindi qua dovremmo vederlo alla rovescia con le quotazioni dei bond però per semplicità guardiamo i rendimenti anche perché i rendimenti ci danno una serie continua non è discontinua come quella dei future sui bond quindi c'è più chiara la situazione guardando in questo momento i rendimenti vediamo il decennale americano più 22 il decennale americano invece ecco ieri vi dicevo che era sospetto il fatto che stavamo per allungarci proprio nel momento in cui toccavamo la parte bassa del del canale di regressione perché significava che iniziamo un'accelerazione al ribasso giornalmente quando si rompe verso il basso un canale significa che questa pendenza non va più bene il canale ne sta prendendo una pendenza diversa e infatti oggi siamo tornati in qui la rottura di 35 sembra molto più vicina 35 è l'equivalente dell'uno e otto che abbiamo visto prima corrisponde al massimo dell'estate che era una resistenza e ora fa da supporto quindi non ci sono comunque neanche qui grosse novità diciamo normale anche questa fase di pullback ecco del resto diciamo prosegue la discesa del petrolio anche oggi un meno uno situazioni invariate a mi seguire il video di ieri e i video dei giorni passati dove avevamo parlato del petrolio per vedere un po i target di medio non ripeto cose magari già dette per non tediare chi segue il canale quotidianamente e ripetere sempre le stesse cose rimbalzo del gas era già iniziato ieri quindi vi ricorderete che era il target era 5 3 lo avevamo detto anche nel film nel video di fine settimana tra lunedì e martedì l'ha raggiunto la velocità della luce perché si è fatto meno 10 meno 3 in due giorni e ora sta rimbalzando oggi candela tipo shooting guardate con che precisione è andato a vedere è andato oggi a vedere il gap tra venerdì e lunedì e sta tornando indietro lo ha sentito come resistenza quindi anche il gas americano molto tecnico in questo periodo ok verrei alle richieste avevamo detto prismian interessante interessante perché allora intanto perché ha un andamento completamente scorrelato a quello degli indici cioè si sta avvicinando ai massimi storici a una configurazione tecnica bullish perché al volatiliti stop line inclinata positivamente la sopra la media 200 media 200 ha presa inclinazione positiva guardiamola un po dall'alto per vedere che tipo di informazioni ci dà e io direi che questo è molto forte questo titolo in questo momento quindi quello il primo motivo è quello che abbiamo appena detto l'altro è che qua io ci vedrei un mega testa e spalle no che è stato negato con questo break al rialzo andiamo a prendere l'evidenziatore questo break al rialzo che è andato a rompere la spalla destra dopodiché abbiamo fatto un ritest tentando di andare sotto la media 200 questo è un failure failure perché perché ha messo la ha messo il naso giù un giorno e poi con conformazione tipo spring molla è venuto su immediatamente ritest della media 200 qui e ha ripreso il trend a rialzo quindi questa è una configurazione tecnica che non si discute è forte e rialzista e in questo momento è uno dei pochi titoli che visto così cioè ignorando il contesto generale del mercato questo sembrerebbe che sia a debba debba ancora sviluppare una parte di questo movimento rialzista cioè sembra quasi che stia partendo da poco se non fosse che siamo proprio sulle resistenze date dai massimi storici in area 35 e queste resistenze in tutto questo diciamo da settembre 2021 quindi da un anno a questa parte le ha comunque sentite perché a parte qui quando è diciamo c'era l'esaurimento dell'up trend del 2020 2021 però anche nei mesi scorsi ha avuto sempre necessità poi di andare a ritestare i supporti di andare a controllare no la che non che non ci fossero che non ci fossero più vendite in basso fino a un certo punto quindi questo è l'unico l'unica perplessità è quella il fatto che siamo sulle resistenze ma per il resto tutta la configurazione degli indicatori e del appunto è grafica grafica perché c'è la rottura di questa spalla destra è positiva quindi ottima segnalazione da parte dell'amico direi che nel breve se proprio vogliamo andare a cercare di individuare quello che può essere un possibile target del movimento in corso considerando ecco quello che sto tracciando adesso è il movimento impulsivo che si è concluso con questo doppio top qui nel mese di settembre movimento impulsivo partito addirittura a luglio questo in coincidenza con gli earnings quindi queste sono sicuramente anche notizie societarie buoni bilanci prismia nel settore rame cavi quindi probabilmente sono investimenti che stanno confluendo su questo settore e quindi cercando di proiettare verso l'alto come se questo fosse un movimento impulsivo questa è la correzione quindi diciamo che nel breve come minimo potremmo aspettarci un target in area 36 giusto per completare questo questo movimento tipo abc non siamo molto lontani quindi poi la gestione delle posizioni è tutto un altro discorso però dal punto di vista tecnico il giudizio sicuramente è positivo ottima segnalazione grazie all'amico che ha segnalato e vi invito chiunque avesse appunto delle situazioni interessanti da segnalare dal punto di vista di analisi tecnica ma anche dal punto di vista generale anche se avete notizie diversi amici seguono per esempio le vendite degli insider quello è un indicatore molto interessante quindi abbiamo avuto nei giorni scorsi amici che seguendo appunto le vendite degli insider ci hanno appunto detto che l'azienda x o l'azienda y avevano avuto vendite importanti da parte degli amministratori delegati o dei soci principali e quindi sono situazioni da monitorare poi da continuare a monitorare quindi ecco cerchiamo molto volentieri ecco di condividere anche tutte queste informazioni così poi le mettiamo nei video in modo che le possano anche vedere tutti quanti grazie per i commenti grazie per i like grazie per le iscrizioni appuntamento a domani non perdetevi il video di fine settimana buona serata a tutti